Ciao gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi come promesso vi parlo del trattamento finizione di acido eoloronico per le occhiaie. Allora, io ho fatto il primo trattamento il 12 di marzo dell'anno scorso, il giorno dopo Lookdown. Quindi da una vita che volevo farmi questo trattamento, alla fine hanno chiuso tutto. Questo piccolo video l'ho preso dal mio video precedente dove ho fatto vedere tutto il trattamento che mi hanno fatto. Comunque prima di farmi questa iniezione che sembra una tortura, mi hanno messo una crema anestetica che non ho sentito assolutamente nessun tipo di dolore. Me lo fanno sia per il trattamento del filler sia per il trattamento del pigmento. Quindi sinceramente non ho mai sentito assolutamente nessun tipo di dolore. Come vedete la dottoressa mi fa l'iniezione del filler. Dopodiché comincia col massaggio che aiuta a distribuire meglio il liquido su tutto il contorno occhi. Questa seduta me l'ha fatta, come vi ho detto, tre volte. L'ho fatta a marzo, l'ho fatta a giugno e l'ho fatta a luglio. Dopodiché mi hanno fatto il trattamento del pigmento, che quello l'ho fatto credo tre. Come vedete mette questa crema qua, che la vendono comunque anche nella clinica, per massaggiare. Comunque ho fatto questo trattamento il 12 di marzo, poi dopo l'ho fatto a maggio e a giugno e a luglio, che ho finito tutto il trattamento. Allora, io come vi ho detto vivo qua a Valencia, i corsi sono vari, le cliniche estetiche ci sono dappertutto. Ho chiesto a tutti, ho cercato di chiedere più cliniche possibili, finché ho trovato una clinica che si chiama Elisier, che la lascio sotto nella descrizione del video. Comunque, questa clinica qua parla direttamente col chirurgo, è un medico. Varie cliniche, c'è solo l'infermiere o le assistenti che ti fanno questo trattamento, invece questa è proprio un medico disponibile tutti i giorni, riservi, vai tutti i giorni. Ci sono altre cliniche che viene il medico una volta a settimana, quindi rimani sempre incastrata in quel giorno, se non riesci è un problema. Invece là puoi andare qualsiasi giorno tu vuoi, ti gestiscono abbastanza bene. Comunque, mi sono informata benissimo, come sapete l'acido eoloronico, un prodotto che viene utilizzato tantissimo nella cosmetica, ma soprattutto viene utilizzato per correggere varie problematiche della pelle. Allora, io l'ho utilizzato per l'occhiaio, come sapete, ho chiesto tantissimo perché, come, se ha degli effetti collaterali e tutto il resto. No, per quanto mi riguarda non ha nessun tipo di effetto collaterale, l'unica cosa quando ti fanno l'iniezione c'è il rischio che si gonfia sotto l'occhio e ti crea delle borse. Allora, se succede questa cosa qua, nella clinica hanno un trattamento, una crema che la applicano, assorbe il gonfiore o assorbe il l'acido eoloronico in accesso. Quindi non è che c'è tantissimo rischio su questo trattamento qua. Io l'ho pagato 350 euro, c'era dentro fill 1-2, a me mi hanno messo 2, perché purtroppo sono andata a marzo e sono ritornata a giugno, quindi mi ha messo un altro. Dentro queste 350 comunque mi ha detto che ci sono dentro 2 filler, perché cambia da una persona all'altra, cambia quanto serve a una persona, quanto serve a un'altra. Altre cliniche ti dicono sono 300 euro, ma c'è dentro un filler, quindi se ti serve un altro deve pagare al 300 euro, non so, comunque questi qua erano tutto incluso. Sia il trattamento del filler dell'acido eoloronico, sia fondamentale il pigmento dopo. Allora, cosa serve il fill di l'acido eoloronico? Ti dicono che toglie le occhiaie, non è che toglie le occhiaie, toglie la parte scavata sotto gli occhi. Io la prima volta che ho fatto il trattamento non è che mi è piaciuto tantissimo, perché vedevo comunque il scuro sotto gli occhi, e la dottoressa mi dice no, vedi che ti ha tolto via la scavatura che hai sotto gli occhi, e quindi io piano piano mi sono convinta questa cosa qua, perché non è che ero soddisfattissima dalla prima seduta. Dunque, fanno questa, e almeno le inizioni le ho fatte tre volte, perché praticamente toglie la scavatura che avete sotto gli occhi, e fidatevi, le persone che hanno sotto gli occhi scavati si vede, perché non c'è rimedio. Cioè potete mettere il correttore per togliere le occhiaie, però per togliere la scavatura è quasi impossibile, quasi, è impossibile. L'unico trattamento ci sono il collagene, come c'è l'acido eoloronico, come c'è il botox e tutte queste cose qua, io ho scelto un trattamento che sia naturale, e ho preferito, perché il botox poi mi perdo via tutta l'espressione della pelle, quindi del viso, quindi non è che mi piaceva tanto l'idea. Comunque, ho fatto questo trattamento qua, ho fatto tre sedute di acido eoloronico, dopodiché ho fatto, credo, tre sedute di pigmento. Cosa serve il pigmento? Il pigmento praticamente toglie via la scurità sotto gli occhi, proprio la fa sparire. Allora, il trattamento di filler non è una cosa definitiva, non è una cosa per sempre, una cosa che dicono che dura tra 6-9 settivà di lusso un anno. Allora, per farlo durare di più, dovete mangiare sano, dovete bere tanta acqua, dovete avere una vita rilassata, che è quasi impossibile, non dovete soffrire dello stress né niente. Io l'anno scorso è stato per me un anno traumatico, un cambio pazzesco di tutto, quindi ho pianto abbastanza, mi sono stressata abbastanza, mi è successo di tutto. Dunque, come vi ho detto, io vi consiglio di farlo vivamente per le persone che hanno sotto gli occhi scavati, come ce l'ho io. Non è che fai questo trattamento, significa ti lavi le mani, basta, non fai più un cavolo, non metti creme, non metti niente, assolutamente no, si devono continuare a mettere le creme, si devono continuare comunque a fare dei trattamenti. Io, come sapete, adoro tantissimo cosmetica naturale, a me piacciono usare maschere particolari, tutto il resto, come mi piace tanto la cosmetica. Io in questo momento ho due creme per contorno occhi, questa di Clarins, che è un gel, e questa qua di Clinique, ma ho anche Remiscar, che io avevo fatto un video parlando di Remiscar per togliere le occhiaie, un usato, mi piace tantissimo, toglie via le occhiaie, ecco, per le persone che hanno proprio la parte scura delle occhiaie, sono due cose che possono funzionare davvero, o Remiscar, oppure il trattamento di pigmentazione nei contorni occhi, senza ombra di dubbio, per quanto mi riguarda la mia esperienza personale, che ho sofferto di occhiaie per tutta la vita, il mio punto di vista. Allora, il problema che ho con Remiscar, che è una crema, un trattamento, è praticamente una maschera per il contorno occhi, secca tantissimo il contorno occhi, infatti loro consigliano di mettere una crema idratante, ma non oliosa, aspettare finché si asciuga, e si mette su Remiscar. La lascia agire per 3-3 minuti, io la lascio agire anche 4-5 minuti, la metto e vado a pulire, o lavare i piatti, o quello che è, e poi dopo la togli via, e fa il trattamento normale. Funziona? Sì, funziona. L'unica pecca che ha questa crema, che secca tantissimo il contorno occhi, per chi ha il contorno occhi sensibile come il mio, è un problema, perché io ho provato a usarla tutti i giorni, come vi ho promesso nel video mio, ho detto la uso per un mese seguente, per vedere il risultato finale, non sono riuscita, perché mi ha creato un'irritazione, mi sono venuti dei brufoletti, mi si è seccato tutta la parte del contorno occhi, quindi l'ho smesso di farla, credo per quindicina di giorni, dopodiché ho fatto tutti i miei trattamenti, tutte le mie cose, finché ho reso la pelle abbastanza umanamente guardabile, allora sono tornata a usare le mie scarpe, e la uso solo una volta, barra due volte alla settimana, oppure quando ho una uscita o qualcosa, perché effettivamente il risultato si vede subito, e quindi, sì, la consiglio, la consiglio per le persone che non hanno il contorno occhi, troppo sensibile, o per le persone che hanno l'occhiaie, occhiaie non scavate, occhiaie non scavate, se avete l'occhiaie scavate, ragazze, ragazzi, non c'è rimedio che l'acido e l'oronico, perché veramente funziona, vi dà un sacco di soddisfazione, io sono soddisfatta, sono contenta, lo rifarò? Sì, lo rifarò sì, appena ho la possibilità economica, perché no, torno a farlo, però aspetto che la scavatura scava ancora di più, allora almeno mi fanno più filler, è un altro vantaggio, vi toglie via tutte le rughette, piccole rughette, con rughette nel contorno occhi, quindi due in uno, vi toglie via le occhiaie, e vi toglie via le rughette sotto gli occhi, ora il risultato dopo un anno, come vedete, sta tornando un'altra volta la scavatura, però se io faccio così, come vedete, mi sta tornando o un pochino sotto gli occhi scavato, o un pochino, non tantissimo, il filler ce l'ho ancora, e quindi ho un pochino cechi, bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, spero che vi è piaciuto il mio consiglio, mi raccomando, seguitemi sul mio canale, attivate la campanellina, così vi arriva tutte le mie novità, mettete un mi piace, e lasciatemi un commento, per chiedermi per qualsiasi cosa, seguitemi su Facebook, e su Instagram, per qualsiasi richiesta, informazioni, sono sempre alla vostra disposizione, al prossimo video, ciao alla gente!